Prendendo atto delle decisioni dell'apposita Commissione, che ha ritenuto di non inserire nelle sue scelte per il decennale del terremoto 2009, il progetto Sisma Q, attivato dalla Deputazione Abruzzese di Storia Patria fin dal 2010 e che oggi rappresenta l'unica esperienza di plurima memorizzazione concreta di tutti gli eventi collegati con il doloroso terremoto per mantenerne la memoria, il sottoscritto Walter Capezzali annuncia che nella prossima riunione dei comitati direttivo e scientifico della Deputazione presenterà le dimissioni dall'incarico di Presidente. Con queste parole Walter Capezzali, alla guida della prestigiosa Deputazione di Storia Patria Abruzzese da circa 30 anni, lascia il suo incarico. Un gesto di protesta per l'esclusione dal programma delle celebrazioni del decennale del terremoto del progetto Sisma Q, un grande archivio multimediale che raccoglie migliaia di pubblicazioni, articoli di giornali internazionali, locali, nazionali, foto, video e podcast prodotti e pubblicati dal 2009. Abbiamo in chiaro, in questo sito che tutti possono liberamente, come dire, consultare, oltre 1600 gigabyte di materiali. Per non parlare di tutto il materiale, cartaceo, documentario, eccetera, che viene regolarmente raccolto. Presidente, per lei e per la Deputazione di Storia Patria l'esclusione dal programma del decennale è una mancanza di, diciamo così, di riconoscimento dell'autorevolezza della Deputazione di Storia Patria? Beh, io dovrei interpretarlo in questo senso, non lo voglio interpretare in questo senso e devo subito precisare che non ce l'ho con il Sindaco, perché il Sindaco tra l'altro sa che cosa è la Deputazione. Sa che cosa è Sismac? Si è già rallegrato e anche pubblicamente di quello che fa la Deputazione. Quindi io potrei, come dire, avere comprensione per una distrazione collettiva che poi, probabilmente, della quale non vorrei nemmeno ricevere giustificazione, ma che almeno si dica in questo senso e non ci si nasconda sotto, come dire, decisioni che stanno in capo ad altri. Ecco, questo voglio soltanto dire e ritengo che lo dovessi dire, l'atto che ho fatto, il gesto di rassegnare nelle mani del Consiglio dei Deputati le mie dimissioni da Presidente, è un gesto dovuto non perché è Walter Capezzali ad essere offeso, ma è il Presidente della Deputazione di Storia Patria ad esserlo.